Giovanni Memovia, non siamo veramente chiusi in casa, è tutto nella tua testa. Beh non è esattamente così, se come me hai detto io resto in casa ti senti un po' agli arresti domiciliari e poi la vita, le tue abitudini ti sono cambiate da un momento all'altro, dalla sera alla mattina. E a quel punto anche io ho deciso di dare il mio contributo per dirti come studiare, come lavorare e cosa fare chiusi in casa per queste settimane. Certo non è affatto facile, non avresti mai immaginato che parlare con quelle persone, anche i rapporti superficiali e la vita di lavoro e di studio che facevi tutti i giorni fossero così apprezzabili e ti sarebbero mancate. E poi la verità è anche che stare da soli in casa non è particolarmente piacevole, ci si sente un po' giù di morale e se invece si condivide la casa con altre persone anche lì è incredibile come i muri, le stanze diventino strette e gli spazi personali diventano molto risicati perché la cosa che ti manca di più è la tua libertà la libertà di fare quello che ti pare quando ti pare di uscire e di andare dove ti pare. Siccome le ripercussioni sono tantissime dal punto di vista dello studio perché tu dovresti studiare invece non ci riesci, tendi a procrastinare, non hai voglia, non hai l'umore per farlo pensavi che fosse possibile portarti avanti con gli studi o recuperare qualcosa invece ti sta venendo difficile ma sono ripercussioni anche dal punto di vista dell'umore, della motivazione, della voglia di stare insieme agli altri ti senti nervoso, i comportamenti ti danno più fastidio, diventa tutto amplificato. Anche io ho detto rimango a casa e così ho dovuto cercare delle soluzioni alternative qualcosa che uscisse fuori dal problema, mi sono voluto concentrare appunto sulle soluzioni e non sul problema stesso siccome abbiamo visto che c'erano dei risultati importanti dal punto di vista dello studio, della produttività si riusciva andare avanti, abbiamo ripreso a funzionare e imparare cose nuove abbiamo voluto estendere questi risultati o meglio queste indicazioni a tutta Italia e quindi in questa puntata vediamo delle soluzioni pratiche per affrontare queste settimane di arresti domiciliari molte di queste indicazioni verranno da un libro meraviglioso che si chiama la lunga strada verso la libertà e l'autobiografia di Nelson Mandela Nelson Mandela ha passato 27 anni in carcere all'interno del carcere la cella era talmente stretta che non riusciva a allungare le gambe i pasti erano pochi, cattivi, sempre uguali e diversi per etnia non era possibile parlare tra detenuti perché si aveva paura che si organizzassero per fuggire o per delle rivolte non erano permessi alcuni libri i reclusi non potevano ricevere corrispondenza perché soprattutto le guardie spesso per dispetto la nascondevano o la trattenevano e non potevano ricevere i loro parenti se non una visita ogni sei mesi pensate che a Mandela non fu permesso di andare al funerale della madre e neanche al funerale del figlio morto in un incidente Mandela racconta poi che il lavoro fisico era durissimo, erano costretti ai lavori forzati ha passato 5 anni a rompere pietre, 13 anni in una cava di calce e poi a raccogliere delle alghe e in tutto questo lui ha trovato la forza per costruire dentro di sé la resilienza, per aggrapparsi alla vita e per scrivere la sua bellissima storia una delle cose che Mandela dice è proprio che aveva bisogno di una routine siccome il carcere era tutto sempre uguale e addirittura gli venivano tolti gli orologi proprio perché così non avrebbero avuto la percezione del tempo che passava lui ha detto io mi sarei sentito malissimo, anzi mi avrebbe ucciso solo non sapere che cosa avrei potuto fare il giorno dopo e quindi noi andiamo a vedere oggi in questa puntata la routine che l'esperienza e le ricerche dicono che è la più efficace in situazioni di reclusione forzata per prima cosa sappi che dobbiamo dirigerci in due direzioni appunto la prima è quella pratica e la seconda è la direzione emotiva dal punto di vista pratico devi organizzare al minuto la tua giornata cioè devi stabilire esattamente che cosa fare e a che ora ti consiglio appena di svegli di strutturare la tua routine in modo da lavarti e vestirti prenderti cura di te perché una delle prime cose che vanno via è una percezione adeguata di sé e della cura di sé questa cosa farà bene al tuo umore insieme alla seconda cosa che ti chiedo di fare metterti degli obiettivi possono essere obiettivi di qualunque tipo ma ti consiglio quelli in cui puoi recuperare quello che non hai fatto in passato imparare delle cose nuove o renderti pronto o pronta per quando tornerai alla vita normale recuperare quello che hai fatto in passato significa studiare, preparare un esame che non è andato bene recuperare delle materie in cui non sei particolarmente forte sono tutte cose che non riesci a fare perché durante la giornata siamo incalzati da tante incombenze da tanti impegni e quindi il tempo ci passa e postponiamo ogni volta quello che dovremmo recuperare se invece parliamo di imparare a fare delle cose nuove ti consiglio un sacco di videocorsi, di leggere dei libri insomma di imparare a fare delle cose che altrimenti non faresti imparare una nuova lingua, imparare a cucinare, imparare a fare stretching, va bene tutto l'importante è che sia qualcosa che arricchisce la tua vita insomma ti rende un essere umano aumentato a un altro livello rispetto a quando questa reclusione è iniziata e la terza cosa proiettati nel futuro quali sono le cose che ti mancano di più, quali sono le cose che vuoi tornare a fare come prima ecco il tuo cervello deve ricevere il messaggio che tra due tre settimane quando tutto sarà finito tu rientrerai nel mondo che sarai più capace di fare quelle cose è una sensazione entusiasmante se ci pensi quella di dire io tornerò in mezzo alla gente e sarò meglio di prima, sarò cambiata o cambiato ti dico i miei obiettivi per esempio io ho deciso di dedicarmi finalmente un po' di più alla meditazione fare due video a settimana, due puntate a settimana su questo canale ho deciso di terminare una volta per tutte il libro sul metodo di studio che ti regalerò se sei iscritto al canale entro questo fine settimana e poi ho deciso di dedicarmi un po' di più al canale Instagram che ho un po' trascurato condividendo in tre storie almeno al giorno dei contenuti esclusivi sul metodo di studio e sullo sviluppo della resilienza per gli studenti ricorda questi obiettivi per lo più vanno portati a termine entro la fine di questo periodo di reclusione forzata e vanno strutturati all'interno di una giornata ben definita una routine divisa per ore in cui come dicevamo sai esattamente cosa fare e quando e che inizia col prenderti cura di te la mattina tra parentesi è stato provato dalle ricerche che prendere l'impegno pubblico cioè dire agli altri quello che farai quali sono i tuoi obiettivi ti spinge e ti motiva di più a fare quelle cose proprio perché non vuoi fare la brutta figura di far vedere agli altri che non hai raggiunto quegli obiettivi che avevi promesso un'altra cosa che Mandela e i suoi compagni di reclusione avevano scoperto è che la socialità è tutto si erano resi conto che era importantissimo scambiare, parlare, condividere e quindi anche tu sei la prima persona, prendi l'esempio sei il primo a condividere quello che fai con gli altri proprio perché gli altri hanno bisogno magari si trovano in una situazione più difficile di te la socialità è importante perché la condivisione e la comunicazione anche virtuale ci permettono di sentirci utili e di sentire che stiamo aiutando gli altri e questo sposta la nostra attenzione dal concentrarci sulle nostre difficoltà emotive per aiutare gli altri e aiutare l'altro aiuta miracolosamente e inaspettatamente anche noi stessi altro motivo per cui è molto importante una routine piuttosto rigida e cadenzata e che questo ti sblocca, ti rimette in moto e quindi ti permette di evitare la procrastinazione cioè il dire sì vabbè ma tanto che lo faccio a fare oppure lo faccio dopo in questo caso sei tu a darti delle regole e attenzione lo so che le regole in genere non ti piacciono a me personalmente non piacciono però se sono delle regole autoimposte se lo fai perché vuoi farlo in questa situazione di necessità ne avrai degli enormi risultati proprio perché tanti si concentrano come sai sul problema sul non fare, sulle regole imposte e tanti altri invece riescono a trarre il meglio dalle situazioni di difficoltà proprio perché trovano come l'acqua la strada attraverso le rocce adesso nella mia esperienza queste indicazioni che ti sto dando non hanno funzionato solo su di me ma su centinaia di studenti abbiamo avuto proprio la sensazione di esserci rimessi in moto ci ha dato una forte positività l'umore è migliorato da subito anche la nostra capacità relazionale anche se virtuale ci siamo sentiti più rilassati, più propositivi e più impegnati in quello che stavamo facendo in un certo senso ci ha dato la motivazione per fare anche perché qui c'è un piccolo segreto e fai ben attenzione avere dei piccoli obiettivi step by step che ti vogliono rendere pronto a affrontare il mondo fra tre settimane in una versione di te migliore di quella di adesso significa che se tu dici io devo prepararmi a quello che succederà fra tre settimane il tuo cervello dà per scontato che queste tre settimane finiranno prima o poi ed è proprio quello che ci aiuta tutto quello che stiamo vivendo al momento è molto amplificato ci nervosiamo per i comportamenti delle persone abbiamo notizie come dicevamo contrastanti e non piacevoli e quindi tutto questo ci porta avere un senso di negatività di buio, di oscurità intorno e invece noi abbiamo bisogno di rivedere la luce alla fine del tunnel possiamo dirla così cioè di vederci, di proiettarci nel futuro a quando ritorneremo alla vita quotidiana Mandela ha scritto a proposito che le difficoltà piegano alcuni uomini e ne rafforzano degli altri se ti piace questo pensiero iscriviti al canale avremo un sacco di puntate dedicate a imparare a fare cose nuove e a migliorare noi stessi in vista di quando torneremo alla luce e iscriviti soprattutto perché alla fine di questa settimana così sarai fra le prime persone a ricevere in omaggio l'ebook che sto terminando sul metodo di studio che ti insegnerà i metodi precisi per prendere i voti più alti studiando due ore al giorno e con un quarto dell'ansia lo riceverai direttamente nella tua casella di posta come mio regalo in questa situazione di difficoltà qui sotto nei commenti scrivimi se hai delle idee se ti sei già messo degli obiettivi su come migliorare su cose da fare in questo periodo di reclusione quali sono le cose che non vedi l'ora di ritornare a fare ci vediamo nella prossima puntata